Riccardi Sarafano per presentare il suo ultimo libro. Esatto, Riccardi Sarafano, Piero Riccardi è un giornalista importante, anche se poco conosciuto, diciamo come nome, ma è un giornalista di report che parla sempre di cibo. In questo libro, Riprendiamoci il cibo, parla di nuova agricoltura, di agricoltura senza la massificazione delle grandi imprese. Quindi è un giornalista importante che ci parlerà di questa nuova agricoltura. A che ora e dove sarà l'appuntamento? Allora al centro pastorale, quindi alla diocesi, alle ore 18, quindi ci sarà la presentazione di Sergio Ferri e poi successivamente a questo incontro ci sarà una cena all'equità di Mora con lo chef Ciavarini, Filippo, che presenterà un cibo territoriale.